ciao sabrina sono appena tornata al matrimonio di georgia sì sì bellissimo senti ti volevo sì il vestito era stupendo ti volevo chiedere un consiglio però sì la torta era buonissima l'ha assaggiata anche zarina figurati senti e sai quando sono tornata a casa ho trovato un disastro i cuccioli hanno fatto festa ovunque sui tappeti sui divani sui pavimenti non sai che odore e no e beh penso che si siano un po vendicati perché li ho lasciati da soli sì però adesso la cosa più urgente è togliere ogni traccia di sporco e di odore tra poco arrivano i miei a vedere la casa nuova ma tu come fai come ma fra i nuovi prodotti per pulire ogni traccia di sporco e di odori dei nostri cuccioli la pet line è nata per assistere i proprietari di animali durante il trasporto in auto dei loro amici a quattro zampe e anche durante il loro soggiorno in casa utilizzando la grande esperienza che mafra ha accumulato nel campo della pulizia di auto e ambienti ecco il lavapavimenti antiodore e il pulitore per divani e tappeti così eliminò ogni traccia di bava e di grasso e con il rimuovi odori neutralizzo definitivamente ogni cattivo odore degli animali domestici rispettando il loro fatto sabri funziona sì c'è un profumo buonissimo per tutta casa ed è tutto pulito come ti sposi ma è fantastico ma certo che vengo tanto qui a casa ci penso ma fra